Grazie a tutti. 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 Signore Gesù, Principe della pace, luce delle genti e attesa delle nazioni, Chirie e le son, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdone i nostri peccati e ci conduca la vita eterna. Amen. Grazie a tutti. 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 poiché per me, poiché a tutti. Grazie a tutti. dicendo, parola di tutti. Grazie a 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 tutti. parola di Dio. parola di Dio. grazie a tutti. grazie a tutti. Alleluia! Alleluia! Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, tuo Signore. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, che era stato chiamato dall'Angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Gloria a te, tuo Cristo. Cari fratelli e sorelle, riviviamo oggi la splendida ispirazione, intuizione della Chiesa di porre inizio di ogni nuovo anno nel cuore di Maria, che oggi onoriamo come Madre di Dio e nostra. Vi auguro, quindi, un felice anno nuovo, trascorso tutto nella pace. Oggi è la giornata mondiale della pace. Nella pace e nella gioia e nella grazia di Dio, sotto il sorriso benedicente della Madonna, nostra dolcissima Madre. Il Vangelo ci racconta che furono i pastori i primi ad accorrere e riconoscere il principe della pace. E lo trovarono con Maria e Giuseppe, nella semplicità e nella povertà di una mangiatoia, la mangiatoia della misericordia. La via evangelica, cari fratelli e sorelle, la via evangelica della pace, parte dalla Santa Famiglia di Nazareth. Alla sua scuola, dalle piccole cose, dalle virtù semplici e interiori dell'anima, accompagnate da una vita coerente. Dante, nella Divina Commedia, descrive con queste pennellate il cuore materno di Maria. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saduna, quantunque in creatura e di bontate. La pace si costruisce partendo dal proprio cuore, come ha fatto Maria, come hanno fatto i Santi. Abbiamo iniziato, per grazia del Signore, un nuovo anno, il 2021. Lo vogliamo porre sotto il segno della benedizione divina, invocando l'intercessione di Maria e la pace che è dono del Signore e frutto del nostro impegno. Madre Speranza, a questo proposito, diceva che nessuno può trasmettere la pace ad un altro se lui prima non la possiede. Madre Speranza aveva questa immagine, ecco, parlando della pace, diceva che noi a volte siamo come quelle farfalle che vanno di pianta in pianta, di fiore in fiore e non si posano, non si stabiliscono mai. Il brano biblico della prima lettura ci presenta la prima grande benedizione solenne da parte di Dio. Dio benedice, dice bene, la sua benedizione ed è efficace e produce quello che annuncia. Recita così questa benedizione nel libro dei numeri. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti conceda pace. Il volto luminoso indica la tenerezza di Dio, la sua misericordia, il suo sorriso che è luce, il suo linguaggio che è un linguaggio dell'amore. La pace, come tutti sappiamo, in ebraico è shalom e nella Bibbia è la pienezza dei doni del Signore, quelli spirituali e anche quelli materiali, temporali, possiamo dire. E nel manifestarsi della presenza tra gli uomini del Dio che salva. Ecco perché il Salvatore, il Dio con noi, il Dio tenero, che è come un padre e una madre. In questo contesto noi celebriamo oggi la giornata mondiale della pace. La pace può essere garantita solo se gli uomini seguono la loro chiamata ad essere un'unica famiglia. Il grande sogno del bambino di Betlemme è fare di tutti gli uomini una sola famiglia. Stiamo vivendo questa crisi sanitaria globale provocata dal Covid-19 che ha aggravato tutte le altre crisi aperte in questo mondo, come quella anche, diciamo, spirituale, economica, migratoria. Crescono le disuguaglianze, cresce la povertà. E in questa situazione, cari fratelli e sorelle, Papa Francesco ci invita a promuovere la cultura della cura come un percorso di pace. Prendersi cura degli altri, dei nostri fratelli più poveri, è un messaggio chiaro e diretto del Papa. E dice così, incoraggio tutti a diventare profeti e testimoni della cultura della cura, per contrastare assieme la cultura dell'indifferenza, dello scarto e dello scontro che stiamo vivendo, purtroppo. La cura, oltre ad essere un percorso di pace per sanare le tante ferite aperte nel mondo, è una bussola da riprendere in mano per imboccare la strada giusta verso un futuro più umano. La dignità e i diritti di ogni persona, la cura del bene comune, ma certo che dobbiamo obbedire alle autorità civili. Per il bene comune per il bene comune di tutti, per la salute di tutti, la promozione della solidarietà, la salvaguardia del creato. Siamo custodi della creazione che il Signore ci ha donato. Cari amici, all'inizio di un nuovo anno, sotto la protezione di San Giuseppe, anno dedicato a San Giuseppe, siamo invitati ad aprire il nostro cuore, a metterci alla scuola di Maria, fedele discepola del Signore, per imparare da lei ad accogliere nella fede e nella preghiera l'amore misericordioso di Dio. Buon anno a tutti e che la pace regni nei nostri cuori. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesse dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu cocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e è glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Fratelli e sorelle, il Verbo di Dio, Principe della Pace, si è fatto uomo ed è entrato nella nostra storia, scegliendo in Maria la via più pura e bella per entrarvi. Riconoscente di questo dono, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo, per intercessione di Maria ascoltaci. Per la Chiesa, perché sia docile all'ascolto della parola, per testimoniare al mondo la gioia del Dio della pace. Preghiamo. Per intercessione di Maria ascoltaci. Per i rappresentanti istituzionali, perché nella cinquantaquattresima giornata della pace rinnovino in Cristo il loro impegno a favore della giustizia, della solidarietà e della concordia tra i popoli, preghiamo. Per intercessione di Maria ascoltaci. Per tutti noi cristiani, perché come figli dell'unico Padre impariamo ad amare gli altri come noi stessi, favorendo le occasioni di incontro e di comunione, preghiamo. Per intercessione di Maria ascoltaci. Per le nostre comunità, perché ogni membro con gesti di accoglienza verso il prossimo diventi sempre più strumento di pace e di riconciliazione, noi ti preghiamo. Per intercessione di Maria ascoltaci. O Padre, principio e fine di tutte le cose, accogli con bontà le nostre suppliche. L'intercessione della madre del tuo figlio faccia crescere nell'umanità la civiltà dell'amore e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amén. 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 Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'odio e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che nella Tua providenza dai inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, concedi a noi, nella solennità della Divina Maternità di Maria, di gustare le primizie del Tuo amore misericordioso, per goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella maternità della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il Tuo unico Figlio e, sempre intatta nella Sua Gloria Virginale, che ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A Te inneggiamo, inneggiano i Cieli, dei Cieli e i Serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo e Signore, Dio dell'Universo, i Cieli e la Terra sono pieni della Tua gloria. Sordra! 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 Dio dell'Universo, le dì! Sordra! Perte Enito, un corpo che viene, Nel nome del Signore, oh Santo, oh Santo, oh Santo nel volto dei Cerelli. Veramente Santo sei Tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni, con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver senato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai Suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella pesa della tua benedetta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resti degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendi la prefetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i Presbiteri e i Diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci da aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, la Beata Speranza di Gesù e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attenza che si compia la veata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donna le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo Spirito. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, apri pietà di noi. è nata la Maria per un caro Fattules e Virgine Maria Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in soffraggio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. I sacramenti ricevuti con gioia, oh Signore, conducano alla vita eterna a noi che ci gloriamo di riconoscere la Beata Semprevergine Maria, Madre del tuo Figlio e Madre della Chiesa. per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera della Beata Madre Speranza tratta dalla novena dell'amore misericordioso. Gesù mio, si per me, Padre, custode e guida nel mio pellegrinaggio, affinché nulla mi turbi e non sbagli il cammino che conduce a te. Abbi misericordia di me e fammi a misura del tuo cuore. E tu, Madre mia, che con tanta delicatezza e premura hai avuto cura del buon Gesù, educami e aiutami nel compimento del mio dovere, conducendomi per i sentieri dei comandamenti. Di per me a Gesù, ricevi questo Figlio, te lo raccomando con tutta resistenza del mio cuore materno. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ti salve, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, effonda su di voi la sua grazia e vi donne per tutto l'anno vita e salute. Amén. Vi custodisca integri nella fede, costanti nella speranza, perseveranti e pazienti, sino alla fine nella carità. Amén. Dio disponga opere e giorni nella sua pace. Ascolti qui e in ogni luogo le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. Amén. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amén. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. di Dio il sole è grande, il sole è grande.